L'anagrafe delle disabilità, questo il progetto presentato presso il comune di Avellino dal mondo delle associazioni con l'appoggio dell'amministrazione. In prima linea la consulta dei disabili, la Caritas e l'Onlus, libero per tutti. La conferenza stampa è stata anche l'occasione per mostrare i locali del centro d'ascolto che sarà gestito da Paola De Angelis, ufficio presso il quale i cittadini, disabili o meno, possono rivolgersi per avere un confronto e trovare una soluzione in particolare in materia di servizi sociali. Tornando al progetto, l'anagrafe delle disabilità sarà realizzato entro un anno e consiste in uno studio sul numero delle persone diversamente abili e sui disagi che quotidianamente incontrano nel capoluogo. Sulla base di queste informazioni verranno calibrate le politiche dell'amministrazione. Accolte le informazioni poi c'è bisogno di risorse per risolvere i problemi che hanno i disabili, ci sono queste risorse? Le troveremo. Noi faremo di tutto, ci sono dei capitoli specifici per quanto riguarda la risoluzione dei loro problemi. Chiaramente cercheremo di ingentivare soprattutto, ci affidiamo sempre anche a quelle che sono le potenzialità di questo comune, che è stato dato più volte per molto, però la capacità poi di stare a galla rispetto a tanti altri comuni e capoluogo della regione Campania riesce ancora a dare qualche risposta. Devo dire la verità da parte mia, se mi sarà dato l'opportunità di poter andare avanti, ci sarà tutto l'impegno, ma non solo mio, ma di tutta la giunta, nel potenziare quelle che sono le cosiddette politiche sociali. Gli interventi, vale a dire, con l'aiuto anche e soprattutto di partner come la Caritas, di poter potenziare gli aiuti alle persone che realmente hanno bisogno e che quotidianamente vengono a bussare alla porta del mio assessorato. Grazie a tutti.